ciao questo è un nuovo video che di solito che faccio sui film e che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono andato a vedere I Went That Way che è un film che è uscito da poco che in teoria come film degli stati americani e degli Stati Uniti che la data di rilascio è stata il 5 gennaio di quest'anno del 2024 che è visto che adesso l'hanno messo sulle solite piattaforme ho voluto andarmelo a recuperarmelo nel guardare e dedicargli anche un video e portarlo sul mio canale che anche se come come le firme 2 1 e 35 quasi però ho visto che nel complesso magari come film anche se prende magari il genere drammatico crime ci poteva anche stare che confronto ad altre firme sicuramente da quelli che da quelli che ho provato a vedere io sicuramente è migliore confronto ad altri ti dè più che altro magari piace piacere questo tipo di film drammatico crime ne compresso come sono girate le scene come si sviluppa proprio la trama nel film ci poteva anche stare che a parte della regia il regista di questo film è questo già jeff darling che la trama proprio definire parla più più che altro come si dice di questo parla di questo gene good win che è un addestratore di animali accompagnato dal suo scimpanzé domestico che prende in braccio un auto auto sto pista che in seguito si rivela di essere proprio se se si era il killer che è ispirato magari ai venti della vita reali che coinvolgono questo il serial killer che è che come trama più che altro e a questa qua parlava di questo il film che è ambientato nel come film è ambientato nel 1964 che che un viaggio di di tre giorni di tre giorni lungo la road 66 inizia quando bobby falls questo serial killer 19 anni chiede un passaggio a questo g in questo g ma godwin un famoso allevatore di animali che viaggia con il suo prezioso carico il suo scimpanzé televisivo che più che altro la trama di questo film è questa qua che come al solito vi lascio sempre sotto in in descrizione tutte le informazioni proprio sul film tra il cast degli attori che hanno partecipato video trailer e se riesco magari a trovare qualche altra informazione sul film a trovate magari tutto come stavo dicendo tutto sotto in descrizione che visto che lo avevano messo sulle solite piattaforme l'ho voluto andarmelo ricopiare e dedicargli questo video sul mio canale che che la trama del film è questa qua che può prendere anche genere magari thriller oltre magari drammatico crime che anche se è un film americano degli stati uniti di di attori dentro al film che hanno lavorato come attori da parte mia non ne conoscevo nemmeno uno però nel compresso come film ho visto che ci poteva magari anche stare che come i livelli come il livello proprio di film sicuramente è un attimino migliore certe ma magari confronto a certi commedi sempre americani sicuramente migliore come film che dopo dipende può andare anche a gusti po da parte mia ci poterà magari anche stare che sicuramente non è uno dei un po magari restare uno dei migliori film che ho provato a guardarmi però nel compresso era tipo una via di mezzo che ci poterà magari anche stare come film che come vi stavo dicendo prima vi lascio tutte le informazioni proprio sul film sotto in sotto in descrizione come si dice che come film è stato distribuito da questa azienda che si chiama intrattenimento verticale che il film è stato già girato come si dice già nel 2023 che come quello che ho capito io però la sua data di rilascio è stato proprio all'inizio di quindi come si dice è stato rilasciato solamente quest'anno che come film è stato presentato anche in antiprima questo Tribeca Festival all'inizio di giugno dell'anno scorso del 2023 ma è come stavo dicendo è stato distribuito come film è stato distribuito il 5 gennaio 2024 che adesso lo si può trovare sulle solite piattaforme se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare anche gratis e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detto al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao